Ciao Mellon, io sono Ste, l'aspirante elfo e ti do il benvenuto e ben ritornato qui sul mio canale. Oggi vediamo la penultima lezioncina sugli incantesimi. Con la precisione ti spiegherò come sapere quale segno zodiacale, quale pianeta fa al caso tuo per un determinato incantesimo. Ma prima di iniziare ti invito a iscriverti al mio canale così che tu possa rimanere sempre aggiornato con altri video tema tolkeniano, nerd e esoterismo come oggi. Il segno zodiacale puoi utilizzarlo scrivendo il simbolo all'interno del foglio, sulla candela o qualsiasi materiale tu vuoi utilizzare. Oppure puoi attingere all'energia del segno zodiacale vedendo quando il sole entra in quel determinato segno zodiacale o così quando la luna e i vari pianeti entrano in un determinato segno zodiacale. Quindi adesso vediamo con la precisione quando utilizzare un determinato segno zodiacale, quale potere ci può conferire il segno zodiacale per un determinato incantesimo. Per quanto riguarda il segno della diete puoi utilizzare la sua energia per i nuovi inizi e per farti aiutare per i tuoi progetti e i tuoi desideri. Oppure in caso in cui tu stessi ricercando un po' di più di vitalità, magari ti senti un po' spostato, puoi attingere all'energia della diete per ritrovare un po' più di vitalità. Oppure se stai cercando di superare una prova, un ostacolo, una sfida, soprattutto per quanto riguarda le competizioni sportive, puoi attingere all'energia della diete. L'energia del toro invece puoi utilizzarla per farti aiutare a realizzare le tue idee, per richiamare più abbondanza materiale, per accrescere il tuo fascino e per tutto ciò che è legato ai legami familiari e all'amore, soprattutto se cerchi qualcosa di stabile e duraturo. Per quanto riguarda invece l'energia dei gemelli, puoi utilizzarla per farti aiutare per tutto ciò che riguarda la comunicazione e lo studio. Quindi magari se vuoi farti aiutare per superare un esame e per esporre bene durante un esame, puoi utilizzare sia il segno dei gemelli che combinato con il segno della diete, così da essere molto più coraggioso e anche molto più brillante con le idee e con la comunicazione. Il cancro puoi utilizzare la sua energia per richiamare più fantasia per tutto ciò che riguarda l'ambito dei sentimenti, per l'amore romantico e per portare più affetto e amore in famiglia o in una relazione. Invece puoi utilizzare l'energia del leone per farti aiutare ad essere più coraggioso, farti aumentare l'autostima per tutto ciò che riguarda la tua cardiera e per riuscire a sfruttare al meglio i tuoi talenti. La vergine invece ti può essere utile per la stabilità e la sicurezza economica e per ciò che riguarda il lavoro e l'organizzazione. Invece puoi farti aiutare dall'energia della bilancia per la bellezza, se vuoi sentirti più bella o accrescere la tua bellezza, farti aiutare dall'energia della bilancia può fare a caso tuo o anche per portare più armonia nelle relazioni, soprattutto se si basa sul rispetto reciproco e rispetto dei propri spazi. Ma puoi anche utilizzarla per gli incantesimi d'amore, soprattutto se stai cercando di portare un po' più di sensibilità, di creatività all'interno della relazione o anche per attirare un nuovo amore, il tuo amore perfetto, puoi utilizzare il segno della bilancia. Lo scorpione invece ti può essere utile per quanto riguarda il coraggio, la tenacia per affrontare gli ostacoli, per l'ambizione e per la passione. Mentre il sagittario ti può essere utile per lo studio, per i viaggi, per l'ottimismo e per l'indipendenza lavorativa. Invece il capricorno ti può essere utile per tutto ciò che riguarda nell'ambito finanziario e professionale e anche per riuscire a superare gli ostacoli e riuscire a raggiungere i tuoi obiettivi con tenacia e organizzazione e costanza. L'acquadre invece ti può essere utile anche lui per i viaggi, per le idee e per agevolare i cambiamenti. Ed infine l'energia dei pesci può esserti utile per ripartire al meglio dopo un periodo un po' difficile, sia fisico che emotivo. Ed è anche utile per la creatività, l'altruismo e per tutti i lavori artistici e creativi. Invece per quanto riguarda gli astri, i pianeti, puoi scrivere anche qui il loro simbolo sul materiale che utilizzi oppure da una sbirciatina all'applicazione Duff Luna che ti suggerisco sempre perché è molto utile per vedere se un determinato pianeta è in un determinato segno zodiacale così da avere la massima energia che ti può farlo utile e anche per vedere se magari il pianeta è visibile oppure no perché se è visibile ti può dare molta più energia rispetto a quando invece non è visibile. Oppure puoi anche decidere di fare un incantesimo in un giorno associato a un determinato pianeta come per esempio fare un incantesimo di mercoledì associato a Mercurio per tutto ciò che riguarda la comunicazione e lo studio tanto per capirci. Oppure puoi decidere di chiamare in aiuto l'energia della divinità quindi magari puoi chiamare anche Mercurio vieni a me per aiutarmi durante il mio esame così da superarlo al meglio per farti capire come puoi utilizzare gli astri, i pianeti. Adesso vediamo invece nello specifico i vari pianeti su che ambito possono farti comodo. Il sole ti può essere utile per la percezione che hai di te, per la tua identità, per la cardiera, la creatività, il successo e il benessere e l'immagine pubblica. La Luna invece ti può essere utile per quanto riguarda le emozioni, l'intuito per la vita domestica e per la famiglia e per i sogni. Invece Mercurio come abbiamo visto può esserti utile per tutto ciò che riguarda la comunicazione, lo studio ma anche per i viaggi, per l'attività mentale, per il commercio, per la fantasia e anche se stai cercando un modo per riuscirti ad adattare meglio a una situazione. E invece vendere per cosa ti potrebbe essere utile se non per le relazioni, per l'amore, per la bellezza, per l'arte, per la creatività, per la fertilità e per le interazioni sociali fa a caso tuo per tutti gli incantesimi di questo tipo. Marte invece ti può essere utile per il coraggio, per la forza, per l'azione e le varie competizioni. Quindi se vuoi essere un po' più coraggioso per affrontare una nuova situazione o per essere coraggioso per affrontare con successo un esame fa a caso tuo usare il pianeta Marte e la sua energia. Java invece con la sua energia ti può essere utile per il successo, per la fortuna, per i viaggi, per l'ottimismo, per la generosità, per la crescita e per la conoscenza. Saturno invece, per quanto sia mal visto dai vari astrologi, ti potrebbe essere utile per il lavoro, la stabilità, le finanze, la responsabilità e per le limitazioni. Mentre Urano ti potrebbe fare comodo per i cambiamenti, l'indipendenza e per le situazioni improvvise e le idee. Mentre Nettuno ti potrebbe fare comodo per l'intuizione, i sogni, l'immaginazione, la creatività e la spiritualità. Ed infine per ultimo ma non meno importante Plutone ti potrebbe fare comodo per la trasformazione, per il potere e per la morte e la rinascita. Quindi magari se stai cercando di rielaborare un lutto potresti chiedere l'aiuto a Plutone o magari se vuoi trasformare in qualcosa di positivo, un ostacolo o qualcosa di brutto che ti è capitato potresti chiedere l'aiuto a Plutone. E per la lezione di oggi è tutto Mellon, spero di essere stata chiara, di esserti stata utile. Se non ti è chiaro qualcosa, non ti fare problemi, ascrivermi un commento sotto che io sono sempre molto felice e grata di aiutarti se posso. Quindi non farti problemi, non mordo mica. Ci vediamo fra due settimane se non erro, con l'ultima lezioncina sugli incantesimi. Quindi in caso volessi proporre qualche argomento sugli incantesimi che magari non ti è chiaro qualcosa, fammelo sapere sotto che provvedo a farci subito un video. Ti ringrazio di cuore di essere arrivato fin qui, di aver seguito la lezione di oggi, quindi ti ringrazio anche di cuore di sostenere e supportare il canale lasciando un like o un commento o condividendo il video o iscrivendoti al canale. Insomma, qualsiasi azione tu voglia fare per supportare il canale, ti sono molto grata e riconoscente e ti do un abbraccio. Ringrazio tutti i nuovi iscritti, ti abbraccio tutti quanti e se ti va ci vediamo settimana prossima con un nuovo video e fra due settimane con l'ultima lezioncina. E io ti auguro una magica e delfica giornata. Ciao Mellon! Ciao Mellon!